Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione di matrice africana continuerà a portare tempo stabile tanto sole al centro-sud e sulle due isole maggiori, mentre sulle nostre regioni settentrionali avremo alternanza tra sole e nuvole, ma sarà ancora forte il rischio di rovesce temporale, in particolare sulle Alpi centro-orientali, il tutto con temperature massime che saranno comprese tra 26 e 33 gradi al centro-nord, mentre al sud sulle due isole maggiori saranno superiori ai 30 gradi con punte di 33 gradi sulla Sicilia. E questa situazione rimarrà tale fino alla giornata di venerdì, dunque sarà ancora alto il rischio di instabilità al nord con acquazioni temporali improvvisi, mentre al sud avremo ancora tanto sole e tanto caldo con punte di 36-38 gradi sulle due isole maggiori. Intanto voi per maggiori dettagli ed ulteriori informazioni consultate il nostro sito oppure scaricate la nostra applicazione gratuita meteo.it